E ora hai un problema con me! Non me ne resterò qui a fare nulla mentre insulti le tria di questo uomo! Non lo stavo insultando. Scusa, sbaglio o hai detto che quest'uomo sembrava stanco? Sì, ho un mio amico, gli ho detto Pablo, mi sembri stanco. Micro-aggressione! Lo stereotipo sui latinoamericani che abbiano sempre sonno. Dire che sono stanchi è una micro-aggressione che non tollero! Ma io sono stanco. Tu, sei il novellino, vero? Sono il nuovo preside, mi chiamo preside PC. Mi hanno detto che vuoi parlare di questioni di razza. Vieni qui! Vuoi saperne di più sulle razze, eh? Coraggio, spara! Bella giornata, vero? Che problemi hai? Non puoi attaccare senza motivo. Riprova! Bella giornata, vero? Sì, molto bene. In effetti quella non era una micro-aggressione. Ok, secondo Rao. Ho mangiato un hamburger giorni fa. No! Per combattere le ingiustizie sociali, impara a identificare le micro-aggressioni! Stavolta mi esibirò in una micro-aggressione, così vedrai! Gente, ascoltate! Sto per esibirmi in una micro-aggressione, ma è solo per insegnare a questa persona a combattere le ingiustizie sociali. Micro-aggressione in arrivo, grazie. Grazie a tutti. Il mio amico Brian sembra una tipa. Micro-aggressione! Colpisce! Oh, non male! Non solo il termine tipa è sfilente per il sesso femminile. Criticare una persona per il suo aspetto femminio è anche una micro-aggressione verso le persone transgender. Vediamo se individui una micro-aggressione più sottile. I miei pantaloni sono caldi. I miei pantaloni sono caldi. Errore! Pantaloni caldi, non è una micro-aggressione! Quel caffè è di Tim Sherman. Ho sentito che sta per piovere. A Janet piace camminare. Che problemi hai? Non puoi attaccare senza motivo. Riprova! A Janet piace camminare. Il signor Yamashiro è molto bravo a guidare. Micro-aggressione! Colpisce! Bene, la locuzione in realtà sottintende che gli americani di origine orientale non siano in grado di guidare e la parola signore è offensiva verso le persone del terzo genere. Prima di parlare della tua razza farai del lavoro politicamente corretto per me. Ti dirò quando sarai pronto! Ricordati, la gente usa la micro-aggressione ogni giorno. Fagliela pagare! Un vero guerriero è comprensivo, imparziale e politicamente corretto. Assicurati di scorreggiare su tutte le razze ugualmente. Sei inclusivo nel combattere il crimine. un... Un vero pelò Believe! Un vero- nasal! Grazie a tutti.